Ciao Shrek, come stai? Nena so Ma perché? Perché mi vede come... Ha quel ghigno, ragazzi, che vi giuro Mi fa scassare Oh, ciao, benvenuto nell'hotel di Shrek Come ti posso aiutare? Già il fatto che tipo c'ha questo accento inglese stranissimo Posso avere... Esatto, la stanza per cinque notti, per favore Certo, hai una stanza libera nel secondo piano Grazie mille, Shrek Va bene Perché? Perché no? Perché la porta fa questo verso? Perché? Ma è uguale, identico a quello della scorsa volta Solo che fa questi suoni strani Oddio No, povero Shukino, ragazzi Quella è la fine che ha fatto l'amico di Shrek, mamma mia Ok Ma che ci fa lì, pandizzanzero? Oddio Pandizzanzero, che ci fai qua? Ehi, stai bene? Ma io sì Ah, ok, no, stavo parlando a lui Sì Ok, stavo pulendo la stanza Ah, cos'è? Lui la stanza La donna delle pulizie Che ci pulisce la camera Va bene, ok Intanto, ragazzi Aspetta, posso... Sti suoni, vi giuro Delle porte Io non so ancora per quanto riesco a trascurarli Stavamo dicendo Ah, devo fare una bella scagarazzata prima di andare a dormire Ok Ah, vero che stavo di sotto ogni volta dovevo andare dalla parte di Shrek Me lo ricordo bene Ok, bene Intanto, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi a questo canale Perché questo è Svriser Games dove porto questi generi di contenuti strabilianti E credo che nessuno di voi se li voglia perdere, immagino Ciao Shrek, sto andando a fare cacca Vediamo cosa mi dice Scusa Dov'è la toilet? The toilet is over there Grazie Shrek, grazie mille Ok Don't you get pissing on the walls Tranquillo, Shrek È incazzatissimo È incazzatissimo Ok Ok, va bene, Shrek Vado Vado Non piscerò nei muri, te lo giuro, Shrek Mannaggia, adesso ti piscio per terra, Shrek Facciamo una bella scagarazzata Tanto non penso che ci sarà Shrek Ecco, questa me la dimenticavo Questa prima me la sono dimenticata Va bene, ok Andiamocene via Shrek, guarda Spero ovviamente che non ti ho fatto incazzare Vado via Vado a dormire Ok, va bene, va bene Va bene, va bene, va bene Ah, dov'è? Ecco, dov'è questa parte? Va bene, ritorniamo indietro Non posso correre Quindi mi sa che ogni volta dovrò camminare in questo modo Che bello, Shrek Guarda qua Questi erano praticamente nei suoi momenti migliori Nei momenti d'oro di Shrek era Guarda quanti Uno, due, tre, quattro Quattro menti C'ha Shrek Vabbè, pazienza Ah, il suo Ok Beh, la stanza diciamo che non c'è nulla Un calorifero Una mensola e un letto Va bene Ok, questo tipo sono io che dormo Uguale, identico anche nella vita reale Oddio, mi sono svegliato davanti Shrek Non ho capito Oddio, c'è Ah, quindi praticamente ha preso Ma di Zezero proprio come Domestica Che gli pulisce le cose Ah, cacchio, scusami Shrek Non volevo scacarazzarti troppo il cesso Mi ha detto che ho cagato troppo nella toilet E tipo ci ha messo tanto nel pulirlo Guarda, Shrek Guarda Come pure io devo mettermi a pulire il cesso adesso? Beh, effettivamente ho fatto un errore, Shrek Me ne... Eh... Lo capisco Ma non posso entrare dentro il gabinetto, Shrek Come faccio? I said go and clean up the toilet Ok, va bene Shrek, ma non mi dai la chiave Come faccio ad andare a pulire la toilet? Shrek, mi prendi in giro? Non c'è la chiave Aspetta, magari lui ce l'ha? Oh Oh Ah, proprio ho preso Che... Non piangere Non piangere, bandinze Mi dispiace tantissimo Non piangere Dai, un giorno ti metterò in forno E ti mangerò Eh, andiamo avanti Ok Ah, puliamo la cacca che ho fatto Ma dove è che l'ho fatta precisamente la cacca? Scusatemi Qua? Ah, devo pulire qua Ma io non ho cagato per terra Shrek, ma scusami, eh Ma io non sto pulendo cose che in realtà non sono mie Vabbè Puliamo, ragazzi Puliamo Che dobbiamo farci? Puliamo la... Per terra Ancora devo finire, eh Dov'è che ancora non ho pulito bene per terra? Scusatemi Ah, questa parte è qua E ho notato pure questo spot Perfetto Oh, Shrek, guardate Te l'ho pulito benissimo il cesso Credo che... Oddio, è scomparsa la scopa No, come gliela do adesso la scopa? Non piangere Ho perso la scopa Si è smaterializzata nel multiverso Mi dispiace tantissimo Bandinzenzero Vabbè Shrek, guarda Pulito Posso andarmene via? Shrek, non guardarmi in quel modo Per favore Dimmi qualcosa Ok, Shrek Va bene Cos'è? Qua c'è la zona dove si mangia Ah, ecco La scopa Ma l'ho buttata per terra Non c'è un modo per riprenderla Me ne vado via Vabbè Ho capito che praticamente non posso fare nulla Quindi Me ne vado di nuovo in camera mia Che cacchia quel tizio? Cos'è? Che cacchia? Ma sembrava uscito Non lo so Da un film Non lo so Di ricche e morti Ma che cacchio era raga? Ma aveva un collo lunghissimo Una giraffa Ovviamente non Sto dischiando tutti quelli che hanno un collo lunghissimo Anche io ho un bel collo lunghissimo Però non quanto quel tizio insomma Uscito palesemente da Hello Neighbor Ah ok Non mi sento di dormire Ok Devo andare a guardare i quadri Perché devo andare a guardare i quadri? Vabbè Interagiamo Oh No Ma cosa ho fatto? Io smurro cagato praticamente in faccia nel dipinto di Shrek Dovrei fare qualcosa Subito Per forza Run away Hide the painting Ah devo nascondere il quadro Sto arrivando Shrek Devo nascondere il quadro No Maggia mia Raga che caga Era qua davanti Mi sono cagato in mano Oh no Mi sa che Chi potrebbe essere Se non Shrek Ciao Shrek Come posso aiutarti? Siamo un po' incazzato Giusto così ad occhio Stavo solamente guardando Stavano 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 che c'erano dei suoni Che stavano arrivando dalle scale Non ho sentito niente Io Shrek Sei sicuro? Sì 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 Shrek guarda Lo posso assicurare Sì Tutto è apposto Shrek Tutto è veramente apposto Ok va bene Buonanotte allora È sempre notte in questo gioco Sempre notte Non si sa come È sempre notte Va bene ok No vi giuro Io con sta porta del cacchio Non ce la faccio più Basta Ve lo giuro Non ce la faccio più Oddio è qua il quadro Sburro cagato di Shrek Va bene Andiamo a dormire Ora stranamente Dopo due minuti Ma neanche Mi sento che voglio dormire Che sta facendo? Ma sta facendo la beatbox Raga No 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 Non volevo disturbarvi È che tipo Non lo so Ah Gli ha spifferato dove Ho nascosto il quadro Perché si è messo Puli in camera mia Che pezzo di merda Non ci voglio credere Shrek Te lo giuro Ne vado via Penso che ho molta fame Dovrei andare Nella stanza del mangiare Ok va bene Gli sta spifferando tutto Basta parlando Non dì Oh veramente Ti faccio Ti giuro Che ti bollisco Con i broccoli Non stai zitto Gesù santo Cosa c'è? Cosa stanno vedendo I miei occhi? Hanno messo Veramente in questo gioco Il cacchio di gatto Con gli stivali? Cosa? Vabbè Ecco il tipo di Tipo di prima Ciao Sembra messo Un po' male Mamma mia raga Sembra uscito Non lo so Da Crash Bandicoot Ve lo giuro Ciao Ah ma tu sei qua Lavori Ok vabbè Ho capito Si vorrei Da buon italiano Che si rispetti Ti prenderò una bella pizza Una peperoni Esatto Dove mi metto? Metto qua Ah proprio vicino a lui Vi voglio sedere Ehi come va? Tutto bene? Ciao Io sono Carl Ciao Carl Come va? Piacere di conoscerti Carl Minecraft tutto sommato ci sta Ok Carl Spero che il tuo marino Guarda io l'ho mangiato in due secondi L'ho bevuta praticamente quella pizza Va bene Io me ne vado via Io sono certo che Shrek non sarà felice Guarda Pandinzesero sei andato Dopo che ha spifferato Ha fatto lo snitch Adesso sei andato via E Shrek sa le cose Io ne sono certo che così Lui ce l'avrà con me per sempre Shrek ti prego Era un quadro pure brutto O se non dovevo dire questa frase Io non so aprire le porte Shrek aiutami Non sono troppo strano Eccoci qua Ok ritorniamo da questa parte Bene Ritorniamo di sopra Tanto Shrek non può mai sapere Dove cavolo si trova Il mio dipinto Giusto Ok Bene Non c'è nessuno Ok Notte numero 4 Ragazzi ci siamo Siamo nella notte numero 4 Ora chissà che cacchio accade Mi sveglio sempre Dove cacchio è finito Shrek Oddio Ed è sponato È scomparso Dr. Strange l'ha preso Per i nuovi video Per i nuovi film degli Avengers Oddio È stato richiamato Ok E Vabbè Cerchiamolo Andiamo Ah non possiamo andare dietro La cattedra di Shrek No non possiamo Raga ho paura che Shrek sia andata a controllare Dove cavolo si trova il mio dipinto Ho questa netta sensazione Ma andiamo Ah È il nonno di Scusami Il Shrek È il nonno di Shrek Sì Shrek forse Ma non ho fatto nulla Ha avuto abbastanza dei miei casini Ma io non ho fatto niente Ora devi pagare questa cosa Per una notte con me Cosa? No in che senso Cioè devo praticamente Star controllare Tutta quanta Tutto l'hotel di Shrek Ok va bene Devo scendere Nelle scale E devo Prendere le scatole E portarle Nella warehouse Nel magazzino Va bene Shrek Scusami Non volevo Io intanto Zitto Raga C'è il personaggio mio Veramente non ha detto niente Proprio Si è subito Le conseguenze Ok Prendiamo quindi Le cose qua E dove li porto Aspetta Nella warehouse Dove cacchio si trova La warehouse Il magazzino Dove si trova Scusatemi Ma non è che Ti mi diso Sì Shrek Lo sto facendo Shrek lo sto facendo Ah è qua Ma io mi ricordo qua raga Che tipo una volta Ci avevo passato la Ma sono delle armi qua Ok va bene Lasciamo perdere Tutto sommato Credo che sia normale Il fatto che Shrek Abbia delle armi D'altronde è Shrek Va bene Oddio Ciao Carl Tutto a posto Carl Carl Ti vedo un po' perso Ehi come va Tutto bene Tutto a posto Carl Tutto bene Vuoi qualche aiuto Grazie Sarebbe ottimo Se Esatto Esatto Mi dai una mano Carl Grazie Carl Grazie mille Che carino Carl Che mi sta dando una mano A prendere una scatola Mamma mia Carl Ma che cacchio di calzette Le tieni ma nonna santa Ma manco Veramente mia sorella Teneva delle calzette Così imbarazzanti Vabbè Possiamo le scatole qua Shrek Spero che non ti è un problema Il fatto che Bravo Ora puoi andare a dormire Ah ok Grazie mille Shrek Shrek è diventato un gufo Va bene Ciao Shrek Vado a dormire Notte numero 5 Questa è l'ultima notte Stiamo diventando l'ultima notte Ah Però è la mezzanotte È la mezzanotte numero 0 Oddio è diventato tutto quanto così Creepy Ok mi ha detto che devo praticamente stare a controllare l'hotel E fare da guardia notturna No Carl è stato assassinato da qualcuno No Carl Non ha perso minimamente comunque la sua faccia spensierata eh Carl devo scoprire assolutamente chi è stato a farti una cosa del Porca puttana Che è successo Era un incubo Mi sto svegliando Dove sono negli scantinati Che è successo Oddio Sto bevendo del succo Oddio Che è successo Forse non dovevo bere quel succo Ah mi sento forte Ma dove siamo nelle back rooms No C'è imprigionato Ma noi Dato che abbiamo bevuto quel liquido possiamo uscirne senza problemi Let's go Andiamo avanti Ok Oh mi sento stanco di nuovo Ma come Di nuovo Ma Carl ma non ti avevano assassinato Allora era tutto un incubo Oh mio dio Sei vivo Meno male Pensavo che fossi morto Fammi vedere qualcosa Se posso cercare un modo per liberarti da qua Ok Vediamo se riesciamo a trovare qualche cosa Ma quante sbarre ci stanno qua Eh tu interact Ho trovato qualcosa per terra che non mi sono accorto E tu interact Forse devo Eh ok Non va Non va Non va E che dovei Forse dovrei di nuovo prendere La La Come si chiama L'energy drink di prima Andiamo a vedere Mi sa che è così eh Forse però deve essere questa volta molto più veloce Ok ho preso un drink Forse se potrei darglielo a Carl Perché c'è scritto che non posso praticamente berlo Eh Cioè posso berlo solamente una volta in tutta la mia vita Tieni Carl Bebilo Bravo Carl Bebilo Oh Oh no 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 Corri Non posso correre Oddio ma che faccia c'ha Shrek no Cattivo Shrek Cattivo Shrek Oddio è incazzatissimo ragazzi È incazzatissimo No 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 Shrek no No Shrek no Fattane via Oh sono riuscito a scappare Sono riuscito a scappare No Oddio Shrek ti prego Shrek Ti prego Non l'ho fatto apposta ad aver Carl Oh mio Dio Carl è diventato potentissimo Un pazzo gli si muove solo un occhio Boss fight Shrek contro Carl Chi vincerà Lo scopriremo adesso Shrek è un po' strano In faccia E però Carl invece è forzuto Veramente Si muove solo un occhio Ma lui Riuscirà forse a Carl ha preso praticamente il bazzucca di Shrek Il missile Bene ragazzi Spero che questo vi sia piaciuto La fine ve lo giuro Il video Hanno messo un video Di una bomba che esplode Mi raccomando iscrivetevi a questo canale Per altri video come questo Che ci sono Che ne sono veramente Troppi di giochi del genere L'abbiamo tra l'altro visto Precedentemente in altri miei canali E noi ci vediamo Un prossimo Un prossimo video Ciao ciao